Roma a 10 punti con più 4 di differenza reti Krasnodar a 7 con più 2 Dortmund a 7 con più 2 quindi il Krasnodar non deve perdere contro la Roma e allora è sicuro di giocare la finale primo e secondo posto se vince più di 4 a 0 contro la Roma è anche primo ma situazione non facile Chelsea a 6 Malaga a 3 e Lugano a 2 quindi è già decisa la finale quinto sesto e sarà quella tra Malaga e Lugano mentre il Chelsea aspetta di capire quale sarà la sfidante per il terzo quarto posto Stupido eh? Occhio Gabo! Occhio Danì! e allora primo pallone battuto dal Krasnodar con il tocco dietro per Umnikov poi Larionov all'indietro per la Doca Feula lontana recupera bene il pallone il Krasnodar con il cambio gioco a cercare Zakharov poi recupera in mezzo al campo Semenchenko Larionov la Doca Treziakov ancora per Larionov Semenchenko prolunga c'è la chiusura da parte di Guidi che controlla che il pallone termini in rimessa laterale ancora un tentativo da parte della Roma col pallone però trascinato in pallo laterale Larionov per la rimessa recupera la palla alla Roma senza fallo che Larionov spaccata va a mettere il pallone in calcio d'angolo c'è Fredi dietro per Guglielmelli poi Sibirsky tacco di Schietroma fuori gioco allora attenzione alla ripartenza velocissima da parte del Krasnodar vola sulla destra il Krasnodar Guglielmelli con grande forza recupera su Kabarov Dani pallone dentro ancora verso Kabarov esce bene la Roma attenzione contro piede Cioffredi chiede palla della Rocca Cioffredi va da solo Larionov lo ferma perfettamente in rimessa laterale ancora Roma con Schietroma una serie di finte poi va al centro e c'è la parata a terra da parte di Ladocca Largo il pallone adesso per l'iniziativa da parte del Krasnodar con Zakharov che viene fermato in un primo momento poi Umnikov Semenchenko non riesce a servire il pallone largo per Kabarov riconquista la Roma ma Larionov va a chiudere con un fallo però secondo l'arbitro Roma che non ha subito gol in queste prime quattro partite punizione per la Roma con Schietroma Lorenzo che va al cross dentro Ciuffredi fa passare ma c'è fuori gioco di Della Rocca poi scivola anche sul pallone Glovatsky in profondità c'è il colpo di testa da parte di Feola ancora William Feola dietro per il portiere Feola con un buon break riesce a servire Paolocci poi Guglielmelli in qualche modo la Roma trova il possesso e trova soprattutto Ceccarelli Guglielmelli vuole andare da solo vince anche un rimpallo alla fine pallone che arriva tra i braccii di Della Rocca forza Kabarov va a puntare Schietroma velocissimo Kabarov anche lui cerca un'iniziativa personale alla fine Guidi a fermarlo Schietroma poi il tocco è di Sibirsky molto intelligente per Kabarov che si affida ancora a Sibirsky entra in area di rigore pallone arretrato e calcio d'angolo per il Krasnodar ancora un'iniziativa da parte di Kabarov cerca dall'altra parte Glovatsky ferma tutto Guglielmelli poi Larionov eccolo Glovatsky anticipato molto bene però Guglielmelli attenzione a Fandare Cioffredi Cioffredi nell'uno contro uno si ferma poi il tocco è per Guglielmelli il destro è fuori siamo lenti lo mettiamo un pochino forza dai dai diamo su forza ci vuole tanto Cioffredi Guglielmelli al limite dell'aria Guglielmelli cerca di sorprendere la Doca senza riuscirci si riparte subito da Kabarov dall'altra parte punta Guidi Kabarov deve fermarsi poi ancora un tentativo di dribbling il raddoppio di Lorenzo Schietroma fermare tutto poi Paolocci riesce a servire molto bene il capitano della Roma è numero 10 Ceccarelli che però non controlla allora ancora Schietroma col suo mancino Guglielmelli con la sua forza fisica poi Cioffredi il capocannoniere di questo torneo pallone allontanato Feola cerca l'anticipo su Sibirsky che è bravissimo però a toccare lateralmente dove c'è Zakharov ancora Sibirsky rientra davvero forte il numero 21 del Krasnodar l'errore di Guidi ne approfitta Kabarov che poi però perde l'ultimo controllo Kabarov che torna su questo pallone prova ad arrivarci anche Umnikov Guglielmelli è qui Kabarov commette fallo sul numero 6 Claudio Issa Guglielmelli Danie batti tu Dani no gioca Lorenzo Peola cerca di evitare il ritorno di Sibirsky poi Schietroma l'appoggia per Ceccarelli può girarsi il capitano della Roma ancora Ceccarelli dietro per Guglielmelli c'è Paolocci che chiede palla che serve adesso Guglielmelli poi della Rocca sbaglia tutto in mezzo al campo c'è Umnikov che mette giù e fa partire dall'altra parte Kabarov attenzione un 3 contro 3 Kabarov Sibirsky Zakharov va Kabarov a puntare Guidi è molto più veloce Kabarov pallone all'indietro a salvare ci pensa per aiutare anche Peola c'è anche una fase difensiva con l'ultimo tocco addirittura di Kabarov Paolocci centralmente Guglielmelli ha un po' di spazio cerca Cioffredi che vuole prolungare per Ceccarelli sbagliano i giocatori della Roma allora Umnikov gran numero in mezzo al campo ancora Umnikov gioco di gambe è pazzesco da parte di Umnikov poi Zakharov cambia gioco Zakharov per tentativo di Kabarov in mezzo al campo Semencenco sbaglia tutto ripartenza Roma con il tentativo da parte di Schietroma che viene atterrato proprio da Semencenco ecco qui inciampa nella corsa Semencenco non un fallo cattivo del numero 25 del Krasnodar 2 minuti al termine del primo tempo 0-0 risultato c'è però Schietroma sul punto di battuta di questo calcio di punizione dentro Cioffredi della Rocca Guglielmelli e Ceccarelli va a Schietroma a cercare proprio Cioffredi il tentativo poi con il pallone allontanato allora Feola l'imbucata per Cioffredi attenzione della Rocca ne può approfittare della Rocca pallone arretrato poi riesce a mettere fuori bene il Krasnodar con l'ultimo tocco però da parte di Glovatsky allora sarà calcio d'angolo per la Roma pericolosissimo con questo pallone filtrante che nessuno ha toccato ne ha approfittato della Rocca ancora della Rocca Paolocci della Rocca fa passare Glovatsky ferma tutto fa ripartire Sibirsky che non controlla prova ad arrivarci adesso ma è troppo lungo il pallone Paolocci allora per la rimessa laterale verso Cioffredi altra rimessa laterale per la Roma questa volta andrà della Rocca anzi no sempre Paolocci con il numero 5 Gabriele Paolocci lotta Cioffredi poi Glovatsky alla fine Feola contro Sibirsky Feola un'altra chance per allontanare ancora Sibirsky a dar fastidio arrivano anche gli applausi dell'allenatore del Krasnodar Paolocci verso Cioffredi anticipato Paolocci riesce a servire della Rocca per Cioffredi si ferma il numero 4 poi cerca un pallone al centro per Schietroma che la colpisce di schiena quasi senza accorgersi pallone fuori finisce qui il primo tempo 0 a 0 in questo momento Roma e Krasnodar andrebbero a giocarsi la finale primo e secondo posto di Roma Krasnodar 0 a 0 dopo i primi 12 minuti di gioco a seguire vi ricordo sul campo B ci sarà la sfida tra quinto e sesto posto feola feola ad allontanare sull'attacco di Amagumian dai Matti dai Matti poi Schermet fa passare il pallone dai che va bene dai feola ancora poi Treziakov Sibirsky alla fine esce ad agevolare l'inserimento di Avagumian che si libera per il destro e la grandissima parata da parte di Falconaro il calcio d'angolo che parata del numero 12 calcio d'angolo per il Krasnodar Umnikov viene fermato in rimezza laterale Noghi Sibirsky Schermet in profondità cercare Avagumian ancora molto bene Umnikov sbaglia qui il controllo per il Krasnodar allora Nardozzi serve Ceccarelli ancora Nardozzi non riesce a controllare Lovatsky allontana sui piedi però di Paolocci sbaglia anche il numero 5 della Roma allora Umnikov riconquista palla ma ancora Paolocci a farsi perdonare tentativo da parte di Sibirsky di andare in velocità Cioffredi lo ferma e subisce anche il fallo Sibirsky Sibirsky vai vai ma capirai tu la mano io la finale, primo e secondo posto Feola ad allontanare Lovatsky in mezzo al campo, recupera un ottimo pallone Semencenko Benardozzi fermato da Treziakov controllo perfetto da parte di Unnikov, davvero un gran giocatore questo numero 15 del Krasnodar Unnikov poi Della Rocca tiene in campo il pallone ma poi lo cede di fatto a Sheremeth ancora Sheremeth, attaccato da Nardozzi al maniva Nardozzi lascia Della Rocca che punta, ancora Della Rocca centralmente Ceccarelli, subito il pallone a cercare Nardozzi poi ancora Della Rocca Ceccarelli, area di rigore, calcio di rigore per la Roma, calcio di rigore per la Roma l'errore di Glowatsky nel controllo che poi è andato a scalciare ed atterrare di conseguenza un giocatore della Roma ecco qui Glowatsky sbaglia il controllo e poi viene anticipato da Ceccarelli brutto errore di Glowatsky e rigore netto in favore della Roma rimane anche a terra dolorante Ceccarelli il capitano della Roma vi ricordo che con una sconfitta il Krasnodar andrebbe al terzo posto o meglio terzo posto in questo momento mentre sarebbe il Dortmund a giocarsi la finale con la Roma c'è Almaviva dal dischetto contro la docca parte Almaviva 1 a 0 con la Roma al quinto minuto del secondo tempo segna Mattia Almaviva adesso il Krasnodar è costretto a recuperare il risultato per potersi giocare la finale prima e secondo posto un fallo qui con Khabarov però viene fermato da Guidi un'imperfondità da parte di Umnikov per il tentativo di Avagumian della Rocca Sheremeth si lotta Sheremeth rimane in piedi poi arriva il tocco falloso di Almaviva Khabarov no l'arbitro dice che il gol deve essere fermo e soprattutto un po' arretrato lo Umnikov ribattere questo calcio di punizione 6 minuti ancora per le speranze e il Krasnodar qui ci prova con questo tentativo da parte di Cernishev attenzione alla Roma che è ripartita Nardozzi sbaglia il tocco per Cioffredi e allora recupera Sheremeth che cerca di andare da Avagumian Nardozzi calcia dalla distanza la docca addirittura con i piedi si alza il pallone e se lo va a riprendere e va immediatamente a cercare Sibirsky che viene però anticipato da Paolocci in maniera molto positiva ancora Paolocci allarga per Cioffredi va dentro l'area ancora per Paolocci arretrato per Ceccarelli tra le braccia di la docca il Khabarov cerca Avagumian ancora Avagumian lotta alla fine Umnikov riconquista ma c'è un fallo e allora Khabarov per Cernishev anche qui Almaviva va a prenderlo con le cattive Umnikov Cernishev Sibirsky nel contrasto con Paolocci rimane anche giù Sibirsky Paolocci prosegue poi Nardozzi per Ceccarelli in profondità per Cioffredi la palla non passa si rialza Sibirsky poi Guidi per Almaviva l'autore del gol del vantaggio sul calcio di rigore Almaviva pressato stretto da Cernishev che non lo lascia passare Poi Paolocci riparte ma lo fermano i giocatori il Crasno dare allora attenzione a Sibirsky Sibirsky va da solo Sibirsky Feula è in vantaggio ma soprattutto è in vantaggio Falconaro che ha compiuto una parata straordinaria qui c'è il fallo questo è in vantaggio il vantaggio di Mokino Balu lo seguite balu 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 Cioffredi dentro l'area di rigore a chiudere Sheremett poi Paolocci ancora Cioffredi con un sombrero poi però Treziacova ad allontanare, Almaviva controlla palla, gran dribbling nello stretto, Almaviva vuole andare da solo viene fermato dall'irruenza dei giocatori del Krasnodar Poi Della Rocca bravissimo a tenere in campo questo pallone a crederci fino in fondo, Della Rocca infiltrante con la doccia che non tocca, anzi sì anzi no, non tocca proprio abbiamo rivisto adesso la docca dal con Treziacova che allontana Feula a sua volta Umniakov ancora Feula Cioffredi prova a mettere ordine insieme a Ceccarelli Treziacova, Cioffredi ci crede esce anche a toccare verso il centro pallone direttamente fuori allora la docca Danil la docca per il rinvio quando mancano un minuto e quaranta secondi Avagumian poi Almaviva fuori gioco Dina Ardozzi si alza comunque la bandierina che se il portiere aveva recuperato palla della Rocca Guidi esce Cioffredi entra con il numero sette schiet Roma ancora Guidi sono Ardozzi Trezziacova da allontanare ancora Trezziacova che vuole conquistarsi la rimessa al fondo e quindi il rinvio del proprio portiere a 40 secondi dal termine 1 a 0 Roma il calcio di rigore segnato da Mattia Almaviva rinvio di Ladoka in profondità, Umniakov controlla bene poi Paolocci fallo da parte di Umniakov a 8 secondi dalla fine della partita Nardozzi per Ceccarelli ancora Nardozzi prova a calciare dalla distanza facile per Ladoka ma finisce qui e allora per differenza reti il Dortmund giocherà la finale primo e secondo posto contro la Roma che fa 13 punti con 4 vittorie e un pareggio Krasnodar sette insieme al Dortmund ma è a più due di differenza reti contro il più uno del Krasnodar che giocherà invece il terzo quarto con il Chelsea quinto e sesto posto tra poco sul campo B invece tra Malaga e Lugano è un po' di lungo a tutti a presto e la prossima è un po' di lungo ok con il Chelsea e la prossima è un po' di lungo ? hai parte del